Esilio già finito per gli otto parcheggiatori abusivi napoletani che in pieno centro, nella zona di Mezzocannone, sono accusati di aver taglieggiato centinaia di persone tra turisti, pendolari e residenti. Cade infatti il divieto di dimora che li aveva tenuti fuori dalla regione Campania per appena un paio di settimane, lo stretto necessario per sostenere gli interrogatori dinanzi al GIP e per presentarsi dinanzi al Tribunale del Riesame per ottenere ascolto. Il provvedimento era stato disposto lo scorso 20 dicembre dal GIP Rosa De Ruggero, misura che resta però in vita fino allo scorso 4 gennaio, con il provvedimento firmato dal Riesame che attenua di fatto le esigenze cautelari. Una volta dinanzi ai giudici c'è chi ha ammesso alcune delle accuse che gli sono state mosse in questi giorni dalla Procura, ma in sintesi hanno negato di aver taglieggiato i clienti ribadendo di non aver mai usato violenza nei confronti degli autisti, ma hanno anche ricordato le proprie condizioni di indigenza. Il Riesame ha riveduto le conclusioni del GIP revocando l'obbligo di dimora all'esterno della regione e disponendo una misura più blanda, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno, una misura che lascia qualche perplessità e che non può di fatto impedire agli otto indagati di rimettersi all'angolo di una strada a guardia della sosta abusiva. Non passa dunque la linea dura, non regge il divieto di dimora, massima attenzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli che stanno vigilando nella zona di via Sedile di Porto per evitare che si ripropongano le stesse dinamiche finite al centro delle indagini.